Care amiche, in esclusiva per voi i miei splendidi abiti della nuova collezione 2018. Anche oggi una splendida puntata di Wedding Capsule, due abiti meravigliosi che ho il piacere di mostrarvi, guardate un abito effetto nudo, molto bello con una base in tulle color carne e pizzo francese originale Livers, tutto ricamato a mano con delle rose, guardate che effetto magico, con domani cacalla con riporto del pizzo ricamato, eccezionale, guardate che spacco vertiginoso questo, un abito meraviglioso, un abito per una sposa assolutamente trendy, assolutamente alla moda. E poi abbiamo Matilda con uno meraviglioso abito in pizzo francese, Livers, fantastico, un abito bon ton, un abito più classico con un bollerino sempre in pizzo francese e poi abbiamo una gonna tagliata a ruota intera per dare un'ampiezza alla gonna stessa. Un abito meraviglioso, più classico, ma un abito fantastico della collezione Stefano Blandaleone.